ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi mi vedrete qui riunite non sto scherzando oggi volevo fare un video di acquisti perché ho acquistato delle cose mentre ero truccata perché ho fatto un video in collaborazione che sicuramente è già uscito con il gruppo di telegram vi metterò il link qua sopra non mi ricordo nelle schede così potete vedere il make up che ho realizzato con quali prodotti l'ho realizzato con chi ero in collaborazione e tutto quindi troverete scritto qualcosa qua sopra andiamo agli acquisti da Douglas sono stata esattamente come si chiama quello dell'Etenapolis non mi veniva quello dell'Etenapolis ho comprato delle cose in più ho comprato una cosa da Asos vi faccio vedere prima quella da Asos ero in cerca della matita con il rossetto di MAC ma non riuscivo a trovarla da nessuna parte dal sito era sold out da qualsiasi parte io la cercassi non c'era assolutamente sto parlando di Soar io ovviamente volevo sia la matita e sia il rossetto abbinato e quindi cosa ho fatto l'ho cercato tramite Asos cioè non l'ho cercato ho sentito che una ragazza l'aveva trovato tramite Asos e quindi l'ho voluto ordinare e quindi mi sono presa sia la matita Soar che il rossetto adesso vi faccio lo swatch la matita è questa così lunga ed è temperabile quelle che si temperano e questo è il colore e vi metto vicino Soar c'è il rossetto io vi faccio leggere il nome preciso così siete sicure se no facciamo una cosa ve lo farò scrivere qua sotto così ci togliamo il fatto di avvicinare e allontanare il bussolotto è sempre lo stesso e il colore è questo bellissimo colore bellissimo e questo è Soar stupendo colore veramente veramente stupendo bello 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 e questo è Soar poi vi stavo dicendo che sono stata da Douglas all'Etenapolis perché volevo delle cose tra cui dei rossetti di MAC e quindi ho fatto una spesuccia alcuni mi sono stati anche regalati dalla mia amica e gli altri li ho acquistati io allora ho preso un bel po' di rossetti che mi stavano per cadere quindi aiuto ho preso un'edizione limitata questo mi è stato regalato dalla mia migliore amica e si chiama Kiss of Star Lipstick nella colorazione Asterix se non mi sbaglio sì dovrebbe essere Asterix sì sì nella colorazione Asterix allora prima di tutto il bullet è fantastico cioè ditemi voi se è un packaging del genere è stupendo 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 mi piace tantissimo tutto glitterato nella parte di sopra è bellissimo il colore in questione è questo bellissimo e vi faccio lo swatch la cosa bella è il fatto che ci siano tutte queste stelle intagliate cioè guardate qua cioè ma che bellezza ragazze che bellezza una cosa particolarissima il colore in questione è questo ed è un bellissimo 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 colore molto molto bello non vedo l'ora di utilizzarlo e di indossarlo è un colore che dà sul viola blu in base anche alla luce che li riflette perché dal vivo senza la luce diciamo è sul viola però dà anche questi riflessi con il blu ed è bellissimo stupendo poi ho acquistato i rossetti della linea Love Me Lipstick che sarebbero questi questi qua avevo preso dei nomi ovviamente mentre li vedevo online e quindi li ho voluti prendere vi faccio vedere cosa ho preso allora ho preso il 412 ovviamente ve li scriverò non vi preoccupate ho preso il 412 che si chiama Pur Nonchalance ed è con questo packaging che dà questo effetto sul degradé dal rosa all'oscuro e poi di nuovo rosa bellissimo 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 il bussolotto e il colore in questione è questo è un colore bellissimo li ho sbuocciati ovviamente prima di prenderli perché dovevo essere sicuro infatti non li ho presi online e ho fatto bene perché molti di quei rossetti non li avrei indossati perché non mi piacevano questo è il colore ed è molto molto bello cioè molto molto bello è un rosa carne poi andiamo avanti vi faccio vedere il 414 che si chiama Kill Me Softly non lo so se vi ricordate c'era la canzone che aveva questo titolo il bullet è così come l'altro come il precedente e il colore è molto più diciamo marroncino a confronto a quello di prima perché quello di prima era più rosato questo ha un po' più di rosso scusate ha un po' più di rosso sono abbastanza sheer quindi non sono matte scorrono benissimo sulle labbra e questo è il colore questo qua vedete ha un po' più di rosso a confronto all'altro colore che è più rosa poi andando avanti ho preso il 405 eh 400 scusate 415 Joy de Vivre e questo ha il bussolotto con il rosso ha più rosso diciamo a confronto all'altro e questo con i miei occhi oggi sarebbe da dio e questo è il colore cioè guardate che bello questo colore bellissimo e questo è una bellezza cioè è una bellezza veramente bello 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 bellissimo molto molto bello adoro adoro poi per finire ho preso il 422 Mon Coeur Coeur Mon Coeur che ha sempre lo stesso bussolotto con il viola de Gredet e questo è l'altro colore ed è molto molto bello questo ha un allora un po' più di fucsia all'interno a confronto agli altri due che vi ho fatto vedere qua sopra ha un po' più di fucsia e questi sono i colori che ho preso che mi piacciono tantissimo devo essere sincera mi strapiacciono veramente e sono i colori che utilizzo di più in assoluto quindi ho voluto prendere dei colori che per me erano ottimi specialmente come stesura e tutto a me piacciono tantissimo mi ci trovo bene e quindi l'ho voluto assolutamente prendere mi hanno dato i campioncini eccetera eccetera però erano dei profumi li ho dati alla mia amica e basta questo è per quanto riguarda acquisti fatti da Douglas io come vi ho detto mi trovo bene con questa azienda sinceramente oltre che vabbè danno campioncini non danno chissà che cosa però sinceramente sono ottimi come prodotti e mi piacciono mi piacciono veramente tanto non vedo l'ora di utilizzare questi rossetti perché sono colori che io utilizzo tantissimo specialmente questo con il viola lo devo assolutamente utilizzare perché c'ho una fissa devo fare un trucco particolare e mettere quel rossetto quindi aspettatevi un trucco con questa con questa combo sulle labbra mi piace mi piace troppo niente ragazzi io concludo qui il video ovviamente ditemi cosa ne pensate se vi piacciono questi tipi di rossetti della MAC se vi piace Soar Soar è una specie di marroncino che ha del malva all'interno sapete che io trovo del malva dappertutto e mi piace il fatto di essere un colore nude perché molto spesso come l'altra volta io stavo utilizzando un rossetto perché diciamo con il fucsia perché volevo dare più vita alle labbra ma ad un certo punto non mi sono più vista perché metto spesso rossetti nude e automaticamente non ci faccio più caso a mettere altri tipi di rossetti però siccome a me questi piacciono tantissimo da impazzire tipo Fof oppure anche altri tipi li voglio riutilizzare di nuovo quindi mi sono messa ad impegno e devo dire che ho fatto una scelta molto molto bella mi piace tantissimo non vedo l'ora di utilizzarle niente ragazzi io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao